buongiorno a tutti ringrazio stefano per avermi dato questa opportunità di essere qua con voi oggi io sono silvia barbieri responsabile della comunicazione dell'azienda us di piacenza e quello che vorrei raccontarvi oggi è la coprogettazione del nostro nuovo portale internet che è appunto online a partire dal dal mese della fine del mese di novembre della dello scorso anno intanto brevissimamente un focus su com'è l'azienda us di piacenza un'azienda che ha una peculiarità all'interno della regione Emilia Romagna perché è un'azienda che ha una componente sia territoriale che ospedaliera insiste su una popolazione di riferimento di circa 287 mila persone a quattro ospedali sul territorio per un totale di circa 1091 posti letto comprese tre case di cura del privato accreditato che appunto sono all'interno del nostro territorio in questo momento abbiamo otto case della salute che stanno diventando progressivamente case della comunità due ospice circa un poco più di 4 mila dipendenti quindi questa è la nostra rete aziendale che come sapete probabilmente bene ha diciamo verte sul modello di abenspok soprattutto per quanto riguarda gli ospedali che hanno ciascuno una sua vocazione brevemente per dirvi che già diciamo dal 2019 la nostra azienda ha maturato il proposito di voler trasformare il proprio portale di rinnovarlo per presentare ovviamente per rendere un servizio migliore alla popolazione di riferimento che appunto è quella dell'intero territorio della nostra provincia percorso per noi è veramente la parola chiave perché non abbiamo voluto che qualcuno ci consegnasse il prodotto chiave in mano ma abbiamo voluto essere i propri attori protagonisti quindi partecipando a un percorso di coprogettazione del nostro nuovo portale insieme ai professionisti di rettartor e quindi abbiamo costituito fin da allora un gruppo di lavoro un percorso che diciamo ha stato anche abbastanza impegnativo che ha avuto se volevo raccontarvi questo questo brevissimo aneddoto noi ci siamo trovati all'inizio del covido come forse ben ricorderete come provincia ad essere una dei territori prima colpiti appunto dalla dall'ondata della pandemia per cui già dal febbraio del 2020 noi eravamo così impegnati a fronteggiare le prime giornate con tamponi positivi e casi in ospedale ecco io in quelle giornate ho vissuto il momento di massima criticità del nostro precedente sito quindi noi avevamo già individuato la possibilità di creare un portale nuovo ma ovviamente non avevamo ancora a disposizione perché stavamo iniziando questo percorso di riprogettazione del nostro portale è stato veramente un disastro perché in quelle giornate io avevo necessità di pubblicare ben più di una notizia al giorno quindi di informare tutto il mio target di utenza ma avevo un applicativo vecchio che mi consentiva di aggiornare le news da pubblicare e che venivano sparate in rete senza nessun criterio per cui se pubblicavo quattro news all'interno della giornata l'ordine che veniva con cui venivano pubblicate era assolutamente casuale non c'era modo di poterlo pilotare in qualche modo e quindi ricordo una telefonata disperatissima con il mio responsabile dell'allora settore informatico per chiedergli appunto velocizziamo il percorso perché è davvero una necessità importantissima e durante il covid questa cosa si è vista benissimo. Allora come vi dicevo il percorso che abbiamo fatto è stato sicuramente importante quindi siamo partiti dall'individuare insieme gli obiettivi dal fare tre ricerche quindi tramite benchmark una ricerca online qualitativa e quantitativa abbiamo fatto delle interviste siamo andati a definire quello che poteva essere il concept del nostro nuovo sito a individuare il design e infine poi a metterlo appunto online partendo dalla mappatura degli obiettivi che è stata fatta da noi insieme ai colleghi di Rattartol con appunto un percorso di kick off insieme quindi definendo gli obiettivi strategici le principali criticità e i limiti che avevamo in quel momento con la situazione attuale che avevamo e con quella siamo partiti appunto dagli obiettivi che ci aspettavamo di raggiungere con la messa online del nuovo sito. Alcune delle criticità non era assolutamente un sito orientato al cittadino avevamo difficoltà di aggiornamento perché potevamo pubblicare per esempio le news solo da postazioni aziendali avevamo stratificato negli anni una serie infinita di informazioni che era difficilissimo trovare i nostri operatori hanno evidenziato come difficoltà anche il fatto che non ci fosse in qualche modo un linguaggio condiviso né tra di noi né con i sanitari e quindi tutti questi aspetti insomma ci mettevano veramente in difficoltà. D'altra parte pensare a un nuovo portale ci dava anche l'opportunità di pensare di differenziare le informazioni in base all'interlocutore, di pensare anche di fare promozione della salute che è un altro dei nostri elementi chiave della nostra organizzazione con il nuovo portale e di poter finalmente creare una sinergia anche con altri canali, di avere dei feedback e di poter coinvolgere anche il nostro personale all'interno appunto della creazione dei contenuti e non da ultimo di riuscire anche ad esprimere rispetto alla nostra attività finalmente delle misurazioni concrete di quello che riuscivamo a fare e quindi di fare anche a Cantability. Tra le altre suggestioni che sono ammerse in questo percorso che abbiamo fatto iniziale ci siamo appunto resi conto che era difficile trovare la lingua giusta proprio perché la nostra materia quella della sanità è molto complessa e quindi avevamo bisogno di individuare un linguaggio che potesse essere quello con cui avvicinarci, appropriarsi alle persone ma che non era in quel momento quello che stavamo utilizzando. Avevamo come vi dicevo prima bisogno di poter interagire tra sito e social e anche di focalizzare meglio i percorsi che da noi sono molto importanti e ci danno la possibilità di far capire al cittadino dove e che cosa può fare con i servizi della nostra azienda e ovviamente di avere anche un'agilità in quello che poteva essere poi l'aggiornamento del nostro portale. Quindi quello che è stato fatto all'inizio è stato anche quello di confrontare diciamo delle situazioni di quelli che potevano essere altri esempi concreti se vogliamo chiamarli di competi però comunque di punti di riferimento che potevamo avere sul territorio e non solo. Quindi in Italia abbiamo analizzato la ASL di Modena che aveva sicuramente dei punti di forza che ci potevano interessare come per esempio alcune in primo piano tutte le voci delle aree pensate per la persona oppure la ASL di Torino che aveva una sezione dedicata alle strutture sanitarie, la APSS della provincia di Trento e anche alcune esperienze appunto internazionali. Ma non ci siamo fermati lì perché abbiamo voluto anche andare a vedere quali erano gli altri come si parlava dell'azienda US di Piacenza e delle sue strutture all'interno della rete. Quindi abbiamo visto che su Google in particolare c'erano delle recensioni però dove sostanzialmente c'era un'assenza di commenti e prevaleva invece l'aspetto del voto semplice. Mentre su Facebook che è uno dei social che l'azienda diciamo ha rispetto ai quali l'azienda fa una curata attività quotidiana. Avevamo una valutazione media degli utenti corrispondente però soltanto a 177 persone molto positiva perché è comunque su un 4,6 su 5. Abbiamo rilevato insieme ai colleghi di Rattato che era stato molto positivo il fatto di notare che all'interno dei social l'azienda fornisse una risposta sia ai commenti sia nelle chat a tutti coloro che scrivevano. Per quanto riguarda Google Trends invece abbiamo visto che tra le ricerche più comuni diciamo che c'era quella relativa alla nostra attività dei concorsi. Non ci siamo fermati qui in questa attività di coprogettazione per cui abbiamo fatto anche delle interviste mirate in particolare andando a coinvolgere istituzioni, associazioni di volontariato, giovani in scuole, dei dirigenti interni della nostra azienda, i medici di medicina generale che sapete non sono convenzionati ma non sono quindi propriamente all'interno del sistema sanitario nazionale e quindi delle aziende, gli operatori delle case della salute e anche qualche esponente della generazione sandwich. Tutto questo per fare che cosa? Per andare a individuare le nostre personas ovvero per progettare sulla base dei bisogni delle persone perché se non capiamo a chi vogliamo rivolgerci analizzando quindi i comportamenti e le necessità di coloro che sono il nostro target di riferimento facciamo probabilmente più fatica a capire che cosa possiamo appunto proporre. E abbiamo individuato queste cinque tipologie di personas quindi quello che può essere l'utente, caregiver ovvero colui per esempio un genitore o un figlio invece di una persona anziana che può cercare servizi appunto per la persona di cui si prende cura. Un paziente curioso, ansioso che quindi ha bisogno di trovare delle informazioni. Un adolescente che quindi non ha molta esperienza dell'ambito sanitario ma che magari a scuola è venuto a contatto con i nostri servizi che fanno appunto attività all'interno delle scuole e quindi ha bisogno di prendersi, di acquisire alcune informazioni per esempio di accesso ai servizi dedicati. I volontari dell'associazione che ovviamente ci conoscono e quindi sono forse anche più a loro agio all'interno della nostra organizzazione e come vi dicevo i medici di base, ho detti anche medici di famiglia che sono dei nostri partner per quanto riguarda appunto l'erogazione dei servizi ma che sono in questa condizione di dentro e fuori. Allora la strategia che siamo andati a individuare con tutti questi dati è quella appunto di, allora siamo partiti dal presupposto di poter conoscere gli utenti e il contesto in cui si muovono. Queste informazioni quindi ci sono state in qualche modo essenziali, importanti per identificare quei punti di intervento su cui volevamo basare la nostra strategia. E quindi da questa analisi, dalle informazioni che abbiamo raccolto sono state poi stese le basi del progetto che sono poi gli elementi cardine che adesso ritroverete nel sito che ho così il piacere di farvi vedere. Quindi abbiamo lavorato sui percorsi che troverete appunto già nella nostra home page, sui servizi offerti, abbiamo inserito delle parti di suggerimenti e feedback in modo che le persone proprio alla fine della pagina potessero avere immediatamente un riscontro e dirci se quello che avevano letto era corrispondente al loro bisogno. Abbiamo lavorato per dare un nuovo ordine ai documenti che erano all'interno del nostro sito che corrispondevano a un armadio in cui c'erano dentro tante cose non ben classificate e quindi di difficile riperimento. Abbiamo cercato di rendere anche i contatti il più accessibile possibile in modo che anche chi appunto potesse entrare trovasse immediatamente le informazioni che gli servono creando poi anche la possibilità di ovviamente vedere quali sono tutte le novità e i progetti in essere dell'azienda attraverso una sezione con notifiche e eventi. Abbiamo raccolto anche il bisogno dei medici di famiglia che ancora però a cui non siamo riusciti a dare una risposta ma sul quale ci stiamo lavorando per una sezione dedicata ancora appunto da realizzare. Abbiamo lavorato come vi dicevo prima molto sul discorso del linguaggio e della fiducia quindi cercando di semplificare tutto quello che poteva essere l'ambito più amministrativo e tecnico per essere comprensibili dai cittadini. Ci siamo impegnati ed è diciamo uno sviluppo sul quale stiamo lavorando a tradurre alcuni contenuti di inglese e ovviamente c'è tutto l'aspetto poi dell'ottica SEO che richiama comunque che è alla base del nostro lavoro. Tutto questo per dirvi che l'architettura informativa che siamo andati a disegnare e tiene conto appunto di tutte queste suggestioni. Ed eccolo, questo è in un'immagine statica ma adesso esco dalla condivisione e vado anche a farvelo vedere invece online direttamente. Questo è il sito su cui abbiamo messo online il 30 di novembre. Come vedete è orientato sicuramente alle esigenze del cittadino perché la prima cosa che la persona trova entrando nel nostro sito è proprio questa banda come posso aiutarvi. Quindi come avevamo ipotizzato all'inizio e quindi superando un po' la logica del sito vetrina in cui le strutture raccontano di sé e l'utente si deve orientare abbiamo invece insistito assolutamente sul fatto che l'utente può accedere e immediatamente inserire alcune parole chiave per trovare notizie, prestazioni o strutture, quello che gli può servire. Ma l'abbiamo anche agevolato mettendo appena sotto diciamo alcune tra le voci più cliccate. Sulla home page in alto, quindi nelle bande orizzontali trovate tutto il frutto del lavoro che vi ho precedentemente descritto. Quindi abbiamo inserito tutta una parte che riguarda le prestazioni in percorsi di cura. Quindi ci sono gli ambiti di più interesse per il cittadino quindi l'assistenza ospedaliera, l'assistenza farmaceutica, l'assistenza sociosanitaria, ma anche delle attività molto pratiche che gli possono essere utili, quindi il pronto soccorso in questo momento che ancora di primo piano la vaccinazione come può essere la vaccinazione contro il covid, gli screening. Quindi ci sono una serie di attività di immediato accesso. Ma abbiamo anche cercato di semplificare che cosa può essere d'aiuto quindi andando a individuare una serie di prestazioni o di bisogni che possono essere ricorrenti quindi come iscriversi al servizio, come scegliere o cambiare il medico, come fare un tirocinio, come fare una segnalazione. E poi c'è invece la descrizione di tutte le componenti organizzative del nostro essere azienda, quindi ospedali, case della salute, consultori, spazi giovani, quindi tutto quello che può essere d'aiuto e di orientamento per il cittadino. Poi abbiamo la fase, la parte centrale del sito che è quella che ci aiuta ovviamente a visualizzare le attività in corso quindi i progetti, le news, tutto quello che può essere appunto la vita in quel momento dell'azienda. E infine un focus su alcuni argomenti che sono anche questi ovviamente di semplice riperimento e di interesse per il cittadino e alcune invece aree tematiche, quindi le malattie rare, la salute della donna, gli screening. Un'altra parte che abbiamo individuato come assolutamente qualificante era il poter permettere l'accesso soprattutto dall'ambito mobile che è circa l'80% dell'utenza che normalmente visualizza il nostro sito di poter immediatamente cliccare su un luogo di interesse e ovviamente di aprire una mappa che vi permette di raggiungere poi il luogo dove vogliono andare. Nel footer abbiamo messo la parte più istituzionale quindi tutto quello che riguarda l'azienda nelle sue varie componenti e i contatti che sono una pagina molto ricca in cui si possono trovare ovviamente tutte le indicazioni per poter contattare l'azienda in tutte le sue forme principali soprattutto di riferimento per il cittadino. Allora questo progetto che voi vedete qua e che è stato frutto di quel percorso che vi ho raccontato in questo momento ha destato anche particolare interesse nell'ambito della rete e dei comunicatori della regione Emilia-Romagna è stato presentato proprio come un modello che potrebbe essere utile anche ad altre aziende per riuscire a dare al nostro sistema emiliano-romagnolo anche una visione di sistema proprio perché risponde ai requisiti previsti da Agid ed è stata costruita con questo percorso virtuoso e quindi potrebbe diventare proprio nella personalizzazione che noi abbiamo fatto insieme ai colleghi di Red Turtle per cercare di renderlo modello anche per tutte le altre aziende un appunto prototipo anche di quello delle potenzialità che si possono andare a costruire all'interno ovviamente di un percorso simile al nostro. Spero insomma di essere riuscita in questo breve intervallo di tempo a raccontarvi quindi la soddisfazione e l'impegno che ci abbiamo messo per questo percorso durato più di un anno e poi vi invito così a sfogliare il nostro sito per riuscire a visualizzare anche un po' tutti questi aspetti che ho cercato di raccontarvi nel nostro tempo insieme. Grazie e restituirei la parola a Stefano.